Ascoltaci, oh Signore, per quanti in cielo, in terra e in mare hanno dato la vita per l'Italia e per questa nostra città. Perché il Signore doni loro la vita senza fine e il loro sacrificio sia seme di speranza e di pace. Preghiamo. Per i fratelli travolti dalla follia della guerra che riposano in questo mausoleo. Perché nel ricordo del loro sacrificio superiamo ogni divisione e diventiamo artefici della civiltà dell'amore. Preghiamo. Per le vittime di ogni forma di violenza e terrorismo, grandi e piccoli. Per i perseguitati, gli emarginati, gli oppressi. Perché sia riconosciuta loro la dignità e il diritto di uomini liberi, onorando l'immagine di Dio, impressa in ogni uomo. Preghiamo. Con le parole che ci ha insegnato Gesù, raccogliamo tutte le nostre più segrete intenzioni di preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Dio della misericordia e dell'amore, unico Padre di tutti gli uomini, ascolta il grido della nostra speranza. E concedi ai defunti e ai caduti cui oggi facciamo memoria, il riposo eterno, la beata pace nella tua casa e il premio promesso ai tuoi figli fedeli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo, donna loro, Signore. Splenda ad essi la luce per etua. Riposino in pace. Amen. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.